Benissimo, benvenuti, vedremo questa sera una cosa abbastanza semplice, una cosa iniziale ma molto importante che è come portare dei contenuti grafici dell'immagine, delle texture dentro il mondo supponiamo di avere un'immagine, un'immagine che adesso questo è GIF ma in realtà dovrebbe essere JPEG perché non tutte le tipologie di immagini possono essere importate comunque se l'avete trovato su internet un'immagine JPEG è l'ideale o anche targa potete poi importarla e visualizzarla su uno schermo qui su Edmondo quindi la primissima cosa da fare è capire come fare uno schermo quindi per fare uno schermo clicchiamo col tasto destro per terra abbiamo Crea e ci viene questa bacchetta magica e a questo punto possiamo cliccare col tasto sinistro e vedete che ci compare una primitiva la primitiva la chiamiamo pannello in questo modo abbiamo creato un cubo che però non è proprio un pannello per farlo diventare un pannello ci avviciniamo tra l'altro notate che possiamo spostarlo nei posti che più ci aggradano possiamo però fare CTRL SHIFT qui tra l'altro pannello non l'ha cambiato chiamiamo pannello in via quindi dicevo, lo spostiamo in giro questo è in prudenza che c'è ancora qualche problemuccio pannello ecco, quindi ho dovuto salvarlo le altre viewer non ce l'hanno questo problema quando siamo contenti e felici diciamo della posizione possiamo trasformarlo in un vero pannello con il CTRL SHIFT CTRL permette eventualmente anche di ruotarlo quindi possiamo ruotarlo, vedete, in un modo nell'altro CTRL Z se abbiamo cambiato idea CTRL SHIFT vedete che ci appaiono queste maniglie quindi noi passiamo trasciniamo sempre tenendo premuto CTRL SHIFT lo alziamo, quindi diventa un pannello di legno vedete, possiamo metterlo così e possiamo eventualmente cambiargli le texture e nelle texture la texture invece che il color legno default gli mettiamo un vuoto che è un bianco ma qui adesso dobbiamo metterci la nostra immagine per metterci l'immagine basta che facciamo file, upload, upload image oppure CTRL U quindi facciamo CTRL U andiamo C andiamo dove abbiamo messo la nostra chiesetta chiesa GIF e chiesa JPEG prendiamo la JPEG preferenzialmente diamo invio vedete che ci fa vedere la nostra chiesetta la carichiamo e nel momento in cui l'abbiamo caricata compare nel nostro inventario qua sotto basta cliccare e cliccando negli elementi recenti abbiamo chiesa a questo punto in realtà la cosa più semplice per metterla è proprio di trascinarla dall'inventory quindi chiesa la trasciniamo e la mettiamo sul nostro oggetto e vedete che a questo punto abbiamo la nostra chiesa c'è la nostra immagine ricordiamo che la nostra immagine era appunto questa e vedete che l'abbiamo portata su Edmondo attenzione che le risoluzioni vengono leggermente cambiate quindi al massimo su Second Life sia un'immagine 1024x1024 quindi se avete immagine con più punti vengono ridotte le dimensioni e le proporzioni saranno quelle del pannello quindi ricordatevi sempre che se non lo vedete nelle dimensioni giuste potete alterare il pannello in modo tale da avere la dimensione giusta altra cosa che ho fatto vedere era la possibilità di cambiare l'illuminazione quindi andando sempre nella texture abbiamo la possibilità di avere massima luminosità che vedete che rende più agevole perché il pannello è come se fosse retroilluminato altrimenti così riflette soltanto la luminosità ambientale quindi spesso diventa un pochino scuro quindi di solito è meglio autoilluminarlo e poi ho fatto vedere che era possibile anche creare dei bagliori magari un bagliore 001 che ideale lo rende un pochino abbagliante per delle immagini si nota un po' di più quindi eventualmente possiamo provare a vedere se abbiamo un'immagine una foto tipo questa una rosa carichiamo quindi ripetiamo il procedimento avete visto che abbiamo la rosa qui anche senza bisogno di andare a cercare nell'inventory se ce l'abbiamo già qua a video possiamo trascinarla da qua e avere la rosa e quindi qua possiamo vedere un po' il bagliore l'effetto bagliore che vedete che rende praticamente la rosa un pochino più il bagliore è meglio usarlo pochissimo quindi al massimo 0,01 perché altrimenti non si capisce poi niente e poi ho anche fatto vedere la possibilità di fare il pannello trasparente quindi facendo trasparente diventa tipo una finestra e quindi si può vedere attraverso ok allora questo più o meno tutto l'unica cosa ricordatevi quando avete finito di fare tasto destro prendi in modo tale di avere nel vostro inventory il vostro pannello e gli date un nome F2 premuto con la rosa e questo è tutto per la lezione di mercoledì scorso arrivederci questa settimana grazie a tutti grazie a tutti